I did all alright, had no need to fight, tonight, tonight Ragazzi, io sono Figueroa per il mio canale, bentornati signori nella storia di GTA V, prima di GTA VI GTA V Signori, oggi come lo scorso episodio, no, come tanti episodi fa, abbiamo anche l'onore di avere qui Leo con noi Saluta Leo Ragazzi, ma siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine, guarda, quasi purtroppo Perché comunque, ragazzi, mi ero affezionato un sacco, però diciamo che nel frattempo è uscita la beta di COD Che ancora devo mettere mano ed è il 2 settembre, è uscita da tre giorni, ragazzi, ancora devo giocare a COD Incredibile, però probabilmente farò uscire un video sul primo o secondo canale, dipende anche da quanti episodi mancano E in più, domani, ovvero, che poi forse oggi, cavolo, non lo so quando uscirà questo video, comunque penso che sia il finale È The Casting of Frank Stone, ragazzi, che è un titolo che devo assolutamente giocare Per forza di cose, quindi non so che ora sia pubblicato questo video, forse a mezzogiorno addirittura Per tutti coloro che vogliono, appunto, continuare a seguire la storia di GTA V Come da solito, vi invito a lasciare tantissimi piace, tantissimi commenti Arriviamo sempre a 3.000 like, quindi ringrazio davvero le persone che ogni video mettono 3.000 mi piace Ok? Fantastico Ma, ovviamente, visto che siamo al finale, io voglio sempre continuare a spingere, ragazzi 5.000 like, continuiamo, ragazzi, a spingere da matti Noi siamo arrivati al The Big One, quindi questo dovrebbe essere il video dove c'è la rapina più grande alla Union Depository Ci siamo, boys! Raggiungiamo la galleria e aspettiamo Ovviamente la preparazione del colpo c'è nello scorso episodio, ragazzi, ma sicuramente l'avete visto Raggiungiamo l'ingresso del tunnel prima delle 8 Non so quanto manca, ma comunque Va bene Eh, u Li vuoi usare come capri spiatori se le cose vanno male Questo l'ho già sentito, minchia Trevor, vuol mettersi in zagna Mamma mia, raga, Trevor, che stronzo Non va bene Non va bene questo, prima di un grande colpo Rock and roll Manchia raga Secondo me dovrebbero avere davvero dei Il cuore a mille Il cuore a mille, raga Merda B佢, non lo alliamo Oh, coi Go Mo'viuu Ma che fanno Chciuto Oh, ah, coi Chia, non non, no Ma raga Chia, fanno Raga Hozzate Poi Lotta Hozz' Hanno Hozz' 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 No, no, no No Oh, shit Hey, please Whatever you need Yeah, no, shit We need you No, no What's your name? Casey Casey Get in the fucking truck Let's go Go, go, go Get in Let's go Come on Move You're welfare Grandi Next stop The Union Depository Merda che han cambiato le gomme in E ho tirato giù i pidini Han cambiato le gomme in Pochissimo Cazzo che colpo Cazzo che colpo Relax, man I'm the one who should be crabbing myself I'm about to rob the biggest bank on the planet Fuck, fuck Look, Casey I need you call You're no use to me You're freaking the fuck out What you want to be right now It's useful Eccoci qua Onion 86 In sight Standby Hey I was expecting you like Half minute ago Here you go It's me every time Onion 86 In the building Eggplant 22 In sight Standby Come entrati boys Questo è solo per entrare Non per rapinare i furgoni ovviamente Eh Come un po'c'o Capo Q They're here Don't do anything stupid Let's go pal Authorization Good Good Access is good Courtesy Escort is go Take us to it Follow me Insomma Non è che abbiamo proprio una bella faccia Trevor Eh raga Mamma mia raga che caga Questa raga non vuole morire Al cuore a mille per loro raga Good Imbarazzo c'è raga C'è più che imbarazzo C'è più che imbarazzo E tensione Collection team Is here You ain't getting through that thing with a chisel Hey So You know what to do Uh huh Come on Ok Ok Gentlemen Oh C'è più che imbarazzo C'è più che imbarazzo Assolutamente Mamma mia raga C'ho il cuore a mille per l'oro Mi sto immergendo talmente tanto Mamma mia quanto oro C'è più che imbarazzo C'è più che imbarazzo C'è più che imbarazzo C'è più che imbarazzo Siamo solo C'è più che imbarazzo He's retiring Exploring other opportunities Hey You know your chance of an early death increases dramatically when you retire Yeah I'll bear that in mind Hmm Hmm Perché questo primo piano Ah My back This much metal ain't normal is it Quite irregular Order came down this morning But the computer cleared it Well let's hope no one untoward Word gets word That's what you and the rest of the security gets paid for Isn't it? Cargo's in the loading bay Get her on board All right come on Let's not take up any more of this gentleman's time than we have to That's it Let's go Hey I'm not feeling so well Hey come on Casey Suck it up You can't handle the hangover case Do not overindulge That's right This man right here will teach you a little something about My reaction Mamma mia Ciao signor manager Casey dai che potrebbe essere la tua grande occasione Tipo ti diamo un ingotto d'oro Mi cagerei adosso raga fosse lui eh Don't worry case We move this metal at mission row And you're all done Control We got the metal What's your situation? Not good man Meriwether know we took the UD They are dealing with a sleep Fuck You got a solution for this problem? We tapped it to the traffic light system I'll try to keep them away from you Perché la Meriwether? Fuck I hope you got a solution for this problem Yeah dog we own Okay 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 The link's active Now you can control the traffic lights Ho scelto lui raga Good luck Hey we got it Man this just ain't easy enough Oh merda Here we go Mantine stabile per i furgoni Destinazione Le frecce indicano Michael e Trevor Aiutano a raggiungere la destinazione Camerano Lucidissimo mappo Ok Ok And we're going across the junction I'm across Meriwether coming from the east dog We got ahead east at this junction They're waving us through Okay Hey I need you to take a left here Hey I picked a more Meriwether Northwest in your position We're all near We're all near We're going in so I can fuck you Vai 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 Forse l'ha fatto troppo presto Three Two One Done Yeah go right at this junction Come on Come on Un giro bello grosso Come on Fermi 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 No vai 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 Tu vai Oh man Stai arrivando a sud Green light Green light Chiudi chiudi Vai 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 Ok Faccio questo Che può diventare verde All'improvviso Fermi 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 Uff Wow A pelo Oh Franklin Un bambino bravo oh merda ma chi è che ha cantato la mary wedder raga ancora che sbaglio bravo era incazzatissimo raga questa scoppia no ok no muore aspetta raga qualcuno ha cantato come ha fatto a seguirmi è da 5 stelle 5 stelle raga meno male che c'ho la roba anti proiettile mamma mia che bello sto colpo raga ma stiamo scherzando eh su bravo Michael mamma mia che team leader Michael oddio oh mio dio no dai raga ma che rovinato tutto da sta roba ci sono ci sono che spettacolo mamma mia raga mi sto spessando dai ma se lo aspettano no non se lo aspettano raga sto male finito così abitato della scuola aumentata tutto al 25% raga sono tutti vivi andiamo a casa di Michael ah fatti effettivamente Michael ci sta che ha qualche problema di fiducia un po' poco rancoroso tre guarda siamo arrivati a casa di Michael eccoci qua Ci sarà un paio di giorni prima che Judas ci mostrano i colori reali. Sì? Ora? Sì, ora, Suga. Perché non ti prendi un momento, mentre ti senti a quella grande, fatta piazza di cash, per sentire che cosa è finita, è finita. Cosa che hai detto. Beh, questo è un momento buono. No, 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 no. Ha, 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 ha. Eh, certo, minchia, Franklin, raga, non ne può più di quei due lì, eh. Il grande colpo. Tangente di Casey, 300 milioni, 24 milioni a testa, raga. Gola. 44% not bad, eh, by the way. Ok, vediamo che succede mo'. E adesso, comunque, in live, in questi giorni, dovrei, con questi soldi qua che abbiamo fatto, fare, vestire tutto in borsa e andare da, dall'estero a fare gli omicidi. Così ci permette di comprare tutte le attività della città. Allora, poi, siamo con Franklin. Dopo il colpo, posso passare un paio di giorni nel gioco. Abbiamo la lettera F qua. Quindi mi sa che c'è una missione per Franklin. Forse riguarda la marra. Yeah. Oh, merda. Mamma mia, questo, raga. Raga, non ci credo. Uccidi Trevor, uccidi Michael, ci fai una follia. Secondo voi, ragazzi, cosa scelgo? Ovvio. Che faccia la follia. Raga. Raga. Ovviamente fai una follia. Che cazzo devo ammazzare i miei amici, raga? Andiamo subito dall'estero, raga, immediatamente. Ehm... Ah... What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just spazing, but you know I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I don't fuck, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Um, Devin Weston, man. You know the, um... Oh, that angry, rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, all right. I say... Kill Michael, then kill Trevor. No. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dog. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry and Merriweather Heights melting it down, then maybe, maybe, both of them will pay you a visit and BAM! We turn it into a bust! I ain't got no better ideas. All right. Mamma mia, raga. I'm going to get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry and get yourself set up. I got you. All right. Tutto in un unico episodio, vi lascio, raga. Tutto. La mar pure. No, si è buggato. No, si era buggato, raga. Perché pure la mar vuol coinvolgere? Merda, si. Coinvolge la mar, ragazzi. La mar muore per sta roba qui impazzisco, giuro. Eccosì. Bravo la mar. Mi a buggato. Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah. We creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' ass, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dog. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Look, man. Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. Aha, let's go. Grazie, Lamar. Mamma mia, raga. Alla fonderia. Ti bei ricordi anche qua. Ma dai, raga, ma veramente, ma guarda quelli due bambocci. Are you breaking my ass, trying to save y'all ass? We're just gonna give you just. Yeah? You're not saving me, you're saving him. Oh, you're saving this fat fuck. And y'all gotta keep your fucking heads right in this shit. If not, man, I put burgers in both you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. All right, good. Now we doing this shit, man. It's either now or never. Come on Trevor Fuck it Where do you want me? All right man You go over there Where you want me? You hold your position right there Okay Spera che non mi laghi con tutto sto fuoco raga Che episodio Proprio bomba La pistola Franklin Quando sono pronto eh Ma le sbaglio sempre Here we go We finish things here Goku motherfucker Ma dove sta a magliare? Devo switchare parecchio raga Merda Merda Che cazzo succede raga? Tutto di me vai Franklin bravo devo andare ad aiutare la marra capritemi boys aiutatemi boys ma non corre più forte di così raga bravo non riesco a prendere le teste avrei evitato di sparare a quel bagaglio beh no in realtà no merda andiamo da Michael no le ho un attimo ma cazzati vai Trevor raga che bastardo che stronzo no 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 son morto mamma mia raga quante sparatorie sto video dov'è il mitraglione raga no 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 Sì, tutto giusto. Frank, siamo giusti dentro, muoviamo verso l'esterno. Non so da dove, però io sto uscendo, ragazzi. Non possono continuare così. Elimina gli assalitori, volentieri. Ricarica. Non ando addosso a me, eh? You motherfucker! C'è uno qua che non vuole morire. Come on, you piece of shit! We're looking okay! Let's regroup with the main set of doors! Who? What's up? What's next? We're just gonna wait around for someone to kill us? Or are we gonna wait till this fucker gets turned again, huh? Oh, fight me! Ain't anybody getting turned again, and you know it! What? What? Nobody fucks with us afterwards. What about that tribe, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he's bound to come back. Yeah, there's that. Mamma mia, raga, tutti dobbiamo farli fuori. Stretch? Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess! What a mess! What a mess! How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number! It's me, dawg! You're alive! I thought someone might have your phone. No, no, but look, I got you on speaker phone. You might make it? Yeah, I'm here. And the other one? I see you're putting the ground wheels! Uh-huh. You, um, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start, and Devin Weston's ass. And, uh, wait! W-E-I-C-H E-N-G Wi-Tang! Wi-Tang! And Franklin's Pal, Stretch! Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Josef Ok, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Delpero Pier. Shooting permit came up immediately Ah, Captain! Ohh! I wanted to ice that fucker since some on the Mal had been successful Alright, alright, I got a signal from Mr Harold Josef's phone over at the BJ Smith recreation store, Tutti li ammazziamo, ragazzi. Prossimo episodio domani alle 14, raga. Perché oggi è lunedì. Ve lo metto alle 18, sto episodio. Allora, raga. Io non so esattamente... Non so esattamente se il prossimo episodio sarà il finale. Ma probabilmente sì. Io vi ringrazio, signori. Questo è stato un episodio magnifico. Il big one. Questo casino con Franklin, la quale deve uscire. Ovviamente ho scelto la C, raga. Non avrei mai ammazzato nessuno. Io vi ringrazio, signori. Qui da Gabo di Square. Ci vediamo domani alle 12. Probabilmente col finale di GTA. Alle 12, mi raccomando. Perché alle 14 esce il casting of Frank Stone. E non vedo l'ora di provarlo, ragazzi. Ok? Vi mando un bacione gigantesco qui da Gabo di Square. Da GTA 5. Prima di GTA 6 è tutto. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.